LUCIENDA RUBENPRE Voglio presentarvi una persona. Lucienne de Rubenpree. Al vostro servizio. Per lui la poesia è sacra. È la sua religione. Che follia partire assieme. Parigi. Ho bisogno di lavorare, signore. Ho grande rispetto per il mestiere di giornalista. E cosa pensi che facciamo? Informate le persone sull'arte. Sul mondo. Il mio lavoro è arricchire gli azionisti del giornale. La nostra linea editoriale è semplice. Il giornale prenderà per vero tutto quello che è probabile. Ecco qui. Non si abbasserebbe a quel livello. Lo pensate davvero? Tutti questi pettegolezzi sono solo rumore. Dovete imparare le regole del gioco. È tutto marcio ovunque, non credi? Bisogna lottare per fare delle cose belle. Nel nome della malafede, del pettegolezzo e degli annunci pubblicitari, io vi battezzo giornalista. Già traditi. È arrivato il momento di distruggerlo. Di colpirlo dove gli farà più male. È troppo tardi per avere paura. Già traditi. Già traditi.